Alexander Kristoff vince sul filo del rasoio l'ultima tappa del Tour of Qatar 2016. Il corridore del team Katyusha si impone sul traguardo di Hoa Kornik al termine di una volata incertissima, risoltasi in suo favore grazie all'intervento del photo finish. Niente da fare per Mark Cavendish costretto ad accontentarsi del secondo posto. Il britannico può, tuttavia, consolarsi con la conferma del primato e la conseguente conquista della maglia gialla di leader della classifica generale. Grazie. 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 Grazie.